Dovevo avere il massimo della pena, grazie, grazie al pubblico ministro Regine, grazie al mio avvocato Claudio Botti, grazie al giudice Lucarelli, grazie, grazie, grazie agli amici di Giorgio, grazie a mia figlia, al mio ex marito, grazie a tutti i miei familiari, grazie alla Napoli Bella, grazie. Giorgio, giù, 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 URA NA TROGO!